in diretta dallo stadio di teggiano siamo in diretta dallo stadio di teggiano guardate il portiere ecco a voi quella partita teggiano piaggino in diretta sei contro dieci undici sei contro undici adesso se ne uscito anche uno e sono rimasti in sei perdono a tavolino perdono a tavolino facciamo un'intervista ai giocatori fai pure un'intervista eh si eh fai pure un'intervista eh non me mo è un'intervista mi ha perso a tavolino ma non mi ha perso a tavolino ma piglia la fa l'intervista è già piglia una sì no piglia ti prendi ora piglia eh fai una domanda che ne sai che domanda ok